Buongiorno e benvenuti a Occhio ai Giornali, il commento alla stampa del giorno che come sempre apre la giornata informativa di Fano TV sul canale 17 in diretta, tra poco vedremo i giornali e adesso invece prima guardiamo il santo del giorno e poi il tempo, vediamo il santo di oggi, oggi è San Mattia Apostolo, è il dodicesimo quello che poi ha preso il posto di Giuda Iscariota, il sole esorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.30. Allora vediamo un po' il tempo per la giornata di oggi con il sito della protezione civile delle Marche, oggi venerdì 14 maggio, cielo sereno poco nuvoloso, vedete la pioggia dalla tarda mattinata, precipitazioni sparse con locali rovescio temporali più probabili sulla fascia basso collinare, ancora oggi vento per il quattordicesimo giorno consecutivo, il vento che non ci lascia, previsioni invece per sabato, sabato 15 domani ancora brevi piovaschi durante la notte e la mattinata sulla fascia costiera, fenomeni invece assenti nel pomeriggio, domenica domenica deboli piogge sparse durante le ore centrali della giornata con ancora venti di brezza leggera. Poi il tempo migliorerà lunedì, la prossima settimana più o meno insomma dovremmo esserci con un po' di sole, speriamo poco vento e quindi l'arrivo piano piano della stagione, pare strano ma è così estiva. Allora c'è il titolo del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, effetto scuola al drive test, che cosa vuol dire? Vuol dire che nel punto dove si fanno i tamponi, strada dei cacciatori è sempre pieno, i positivi nell'entroterra pesarese ci sono, continuano a esserci, non c'è questo calo atteso del numero dei contagi quindi l'entroterra continua ad essere sotto osservazione. Ma la buona notizia qual è? E' che anche la settimana prossima le marche saranno in colore giallo, quindi anche se oggi venerdì l'ufficialità arriverà nel pomeriggio, già l'anticipazione del Corriere è questa, saremo gialli la prossima settimana. Vaccini domani e mercoledì, due nuovi slot, quelli che vanno dai 50 ai 59 anni, poi mercoledì i quarantenni fino ai 49 anni, quindi insomma le marche accelerano rispetto al resto dell'Italia, anche se poi la disponibilità è quella che è dei vaccini. Le ruspe al lavoro, il fiume Foglia, Pesaro salta il tappo dei detriti, poi sotto tampona un furgone con lo scooter, 17enne finisce al Torrette di Ancona, trappole via web, anche il pellet fra i raggini online, grava un ragazzino investito in bicicletta mentre va a scuola e successo a Marotta. Stop allo smart working, sindacati, ora non si può, pressione sui dipendenti di lavori pubblici, sua per urbanistica, ma i contagi non lo permettono. Poi il Giro d'Italia, nelle Marche, madre trionfa dopo una fuga. E poi Moretti, della Guardia Costiera, dice l'Alto Adriatico, sorvegliato speciale. Il Carlino di Pesaro, a centropagina, fotonotizia, due persone, una coppia, lui e lei, che vogliono sposarsi, non ce la fanno perché chiaramente le nozze sono sospese un po' ovunque. Infermiera Covid, autista a 118, scrivono dunque al Premier Draghi. Caro Draghi, facci sposare. Vaccini, prenotano anche i quarantenni, potranno farlo da mercoledì, ma le somministrazioni scatteranno in estate. La classe 50-59, anni, anticipata a domani. Quindi per i quarantenni, 40-49 anni, si potranno prenotare, ma poi di fatto lo faranno in piena estate. Parcheggi blu a Lido e alla Sassogna di Fano, ora la giunta frena, mentre a strada San Nicola i residenti sono contro, scendono in strada, insomma scendono, protestano contro il ripetitore. E ancora la denuncia, guardate il Genica come è ridotto, invaso dalla vegetazione, questa è la fotografia pubblicata in prima pagina sul resto del Carlino. Poi dosi a rilento, lettera di richiamo ai dirigenti delle aree vaste e a Marotta il negozio d'abbigliamento lancia gli sconti Covid e crea, insomma c'è un po' di polemica. Lui l'accusa invece mi hai tradito, lei lo mette KO, una lite che finisce col pugno della moglie al marito, l'uomo la querela ma poi ritira tutto quanto. C'è anche il calcio, in prima sul Carlino di Pesaro, incubo Covid, fanno decimato per i play-out, atteso per oggi il responso dei tamponi, domani alle 17.30 gara di andata con Imola, ma ci sono credo tre giocatori che sono positivi al Covid. Andiamo sul Carlino di Ancona perché la fotonotizia riguarda una foto storica, l'incontro tra Giovanni Paolo II e il suo attentatore, Ali Agja, ieri 13 di maggio, lo ricordiamo, insomma i 40 anni da quel terribile attentato in piazza San Pietro. Ebbene, 40 anni fa l'attentato, il racconto dell'avvocato che difese Agja, che è una donna di Ancona, che però dice da quella volta poi non ci siamo più sentiti, soltanto quando è tornato in Italia, una volta ci siamo sentiti al telefono, racconta l'avvocato, ma poi con Agja non ci siamo più sentiti. Questa invece è la fotografia sulla pagina di Macerata del terribile schianto, quest'uomo che è andato contromano per un chilometro, vi abbiamo fatto vedere l'immagine, rivedremo tra poco, roulette russa, shock sulla 77 contromano per un chilometro, poi lo schianto, un uomo di 86 anni, ha imboccato in senso contrario la superstrada allo svincolo di Morrovalle, frontale con un furgoncino e tamponamento a catena, quattro feriti, ma nessuno è grave. Allora, statisticamente rispetto all'anno scorso i telegiornali, parliamo dei telegiornali nazionali, quelli che sono controllati dall'auditel, hanno avuto un crollo negli ascolti, tutti hanno perso decine di migliaia e migliaia di ascoltatori, questo perché rispetto all'anno scorso chiaramente, da gennaio a maggio rispetto all'anno scorso c'è stato un crollo degli ascolti nei telegiornali nazionali perché le notizie sulla pandemia hanno ormai sfinito, hanno fatto il loro effetto, Mezza Italia sta ricorrendo a farmaci, psicofarmaci, ci sono articoli sui giornali che troverete tranquillamente ogni giorno, ebbene anche noi chiaramente nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo parlato, abbiamo analizzato, abbiamo commentato, abbiamo cercato di rendere un pochettino più chiara questa situazione della pandemia nella nostra regione. Ora, voi avete il potere del telecomando, quindi se una cosa non vi sta bene, se vi siete stancati di sentire il Covid, cambiate canale e la faccenda per voi è risolta così. Per me che sono 15 anni che tutte le mattine vengo qua a fare la rassegna stampa, io sono costretto a leggere i giornali e a leggere quello che ci propongono poi tra l'altro i giornali. C'è ancora tanto Covid, ma c'è anche tanta voglia di cambiare pagina, come si dice in gergo, e allora lo facciamo. Cerchiamo di farlo, perché in linea di massima ormai le notizie che dovevamo sapere le sappiamo e quindi non c'è molto da aggiungere. Quindi cerchiamo di tornare e di fare un occhio ai giornali un po' diverso. Poi ci aggiusteremo magari nei prossimi giorni, vediamo se la cosa funziona oppure no. Intanto per cambiare pagina iniziamo con questa notizia. Due preti che hanno deciso di togliere l'abito e quindi di mettere su famiglia. Non è una cosa che avviene qua nella nostra regione, ma qua vicino, praticamente a città di Castello, stanno qua dietro noi, confinano con la nostra provincia. Siamo innamorati di due donne, parroco e vice lasciano la tonaca. Eccoli qua, a sinistra don Samuele Biondini, 50 anni, all'altare con don David Tacchini, 40, i due sacerdoti hanno lasciato l'abito talare. La comunità dei fedeli di città di Castello colta di sorprese, in Umbria è il terzo caso in poche settimane, i rumors in parrocchia, don David ha conosciuto una suora laica e don Samuele invece si è innamorato di una infermiera Covid. Ora, qui tra le varie dichiarazioni raccolte dal giornale c'è per esempio quella della storica perpetua della Chiesa di San Pio X che dice è da 40 anni che sono qui, mai mi sarei aspettata di trovarmi in una situazione simile. ma c'è anche chi, come un parrucchiano anziano di nome Gianfranco, si mostra interdetto. Uno dice un prete può capitare, ma due nel giro di sei mesi mi pare un po' troppo. Il Vescovo Canciane, insomma, ricorda la posizione della Chiesa sul celibato, esprimo profonda gratitudine ai sacerdoti che con gioia si donano quotidianamente per tutta la vita nel generoso servizio, esercizio del Ministero in favore del popolo di Dio, chiediamo al Signore il dono della fedeltà, tutte le vocazioni, anche quella matrimoniale. Ma credo che la cosa più corretta, la cosa più sensata l'abbia detta il Presidente della Conferenza Episcopale Umbra, Renato Boccardo, che dice nel pieno rispetto delle scelte personali che generano sofferenza nei diretti interessati e nelle rispettive diocesi, dice va rivalutato attentamente l'iter formativo che porta al sacerdozio. Alla luce di queste decisioni dobbiamo approfondire anche il ruolo che i seminari hanno nel percorso vocazionale. E dunque il celibato si può vivere in pienezza e con il cuore colmo di gioia solo rispondendo pienamente alla chiamata del Signore. Se uno ha strane voglie vuol dire che la chiamata non è originale, diciamocela con franchezza e chiarezza. Poi non è più una questione di numeri, meglio un prete che faccia tutta la regione piuttosto che cento, ma di cui uno solo è degno. Il resto abbiamo una marea di laici che potrebbero fare tante cose e che quindi speriamo vengano chiamati a farli. Allora, adesso invece andiamo a vedere Riccardo, il filmato che tra l'altro abbiamo mandato ieri sera in diretta sul nostro telegiornale. Andiamo sulla superstrada, vi faccio vedere queste immagini terribili. Al contrario ragazzi, record del mondo, eccomi. Quest'auto al contrario. Eccolo lì, questa è l'immagine di questo terribile schianto. Siamo sulla 77 sulla superstrada e questa è la pagina di Civitanova del giornale. Contromani in superstrada per un chilometro, schianto con un furgone, quattro finiscono appunto all'ospedale, alla guida della Jeep un 86N che è entrato a Morrovale e si è diretto verso la costa, ma sulla corsia sbagliata. E ha provocato questo maxitamponamento che abbiamo appena visto. E c'è il racconto del testimone. Io credo che sia colui che abbiamo sentito adesso al commentare questo schianto in diretta. Era, credo, Nicola Elisei, il testimone oculare che ieri si trovava appunto lungo la superstrada a Civitanova a Foligno. Quell'uomo, dice lui, racconta, ha proseguito così, non c'è stato verso di fermarlo. Procedeva spedito, ha evitato tante auto che gli venivano addosso, ma sembrava di non rendersi conto della cosa. Quell'uomo non si è nemmeno scomposto a guardare alla sua destra, dove noi, con le nostre macchine, procedevamo nella carreggiata giusta, di fianco alla sua. Se si fosse voltato almeno una volta, forse avrebbe capito che stava andando contromano. Ho fatto di tutto, dice lui, per fermarlo, ma non si rendeva proprio conto, faceva tenerezza. Poi purtroppo si è schiantato, spero che non si sia fatto male, ma ripetiamo, insomma, a 86 anni, forse la patente, so che è un argomento un po' delicato, perché non tutti gli 86 anni sono così, ci sono anche quelli ancora che se lo possono permettere. Allora, in questo caso, non togliamo la tucura a tutti, ha 86 anni, però anche qui, come per i seminari, cerchiamo di fare le visite per rinnovare le patenti, ma in modo serio. Invece, anche perché poi, vedete, ci sono incidenti, ieri c'è stata una marea di incidenti, anche in provincia di Pesaro. Qui siamo a Marotta, sul Corriere Adriatico. Va a scuola ed è investito in bicicletta. Un ragazzino trasportato a torrette, urtato da un'auto, il 12enne volato a terra, ma è ancora da ricostruire la dinamica dell'impatto. È successo ieri mattina, intorno a quest'ora, 7.45, sulla statale Pergolese, all'altezza del Bivio per Viale Europa. Per cause al vaglio della polizia locale, un'auto condotta da una donna di 60 anni, del posto aurtato contro una bici, sulla quale viaggiava un ragazzino, un bambino, un ragazzino di 12 anni. Il giovane studente indossava lo zainetto, violento l'impatto, scrive Jacopo Zuccari, sul Corriere di questa mattina, l'impatto che procedeva anche lei in direzione mare, proveniente da Mondolfo. Ha intervenuto, ha intervenuto una vigilessa che ha visto praticamente in diretta questo scontro, una vigilessa di pattuglia che ha subito, come dire, soccorso per prima l'adolescente, che era cosciente ma fortemente dolorante, con lo zaino in spalla, e nel frattempo si era portato a fatica a sedersi sull'aiuola spartitraffico. La donna al volante della Panda si è immediatamente fermata, anche lei sotto shock. Comunque va detto che, sì, vanno al torrette, si va con l'elicottero, eccetera, ma comunque non è in pericolo di vita. E per fortuna, anche se in codice rosso, un altro incidente è avvenuto invece a Pesaro, per fortuna anche qui è grave ma non è in pericolo di vita, stiamo parlando di un incidente che ha coinvolto un ragazzo, un ragazzo poco dopo le 5 del pomeriggio, siamo in via Gagarin, un ragazzino non ancora maggiorenne, deve compiere 18 anni a luglio, ed è stato ricoverato in codice rosso anche qui a Torrette, anche lui a Torrette, anche se non è per fortuna in pericolo di vita. L'incidente è accaduto all'altezza dell'intersezione con via San Martino, praticamente all'altezza dello stabilimento Arturo Mancini di Pesaro. si è trattato di un tamponamento le cui modalità devono essere ancora accertate da parte della Polizia Locale di Pesaro. E questo è dunque una Fiat Ducato, sì, questo è l'in... perché ce ne sono diversi, è di incidenti che sono stati raccontati in un unico pezzo. Intanto invece, cambiando pagina, andiamo sulla pagina 9 del resto del Carlino, accusa la moglie di tradirlo, lei lo manda a K.O., la donna di 54 anni gli sferra pugni e schiaffi fratturandogli il naso con prognosi di 30 giorni, ma lui al processo ritira la querela. Il giudice ha prosciolto la donna con sentenza di non luogo a procedere. L'ex marito è stato chiamato ieri a testimoniare, ha risposto di aver avuto, sì, 30 giorni di prognosi per le botte dalla moglie, ma poi essendo un artigiano era tornato al lavoro tre giorni dopo le botte ricevute, per questo non è rimasto 30 giorni in convalescenza. e quindi essendo venuto meno il periodo dei 30 giorni di prognosi non si poteva procedere d'ufficio, nel frattempo la querela era stata ritirata. Così ieri l'artigiano che ha 53 anni con gli abiti da lavoro ha confermato di non voler procedere ulteriormente, tanto che lo stesso PM ha chiesto di non doversi procedere nei confronti nemmeno della donna. Insomma, quello che doveva aver avuto in sostanza è andata bene così a tutti. L'RT, e qui adesso apriamo però la pagina della pandemia, perché i giornali naturalmente parlano di questo anche oggi, l'RT, l'indice di contagio risale ancora, ma sotto quota 1, le marche giallo fisso, oggi il report, i parametri ospedalieri sono rientrati sotto le soglie di allarme, colore confermato, ma la curva dei contagi si piega poco. La zona bianca, quella alla quale tutti ambiscono, ma insomma è ancora lontana. L'incidenza settimanale è ancora vicina a 100, bisogna riportarla addirittura a 50, quindi insomma la strada è abbastanza ancora lunga. Insieme alla Calabria siamo comunque la regione che frena appunto di meno. La fuga da AstraZeneca, questo vaccino, 1 su 2 dice praticamente di no, siamo sulla pagina 2 di Pesaro, e le vaccinazioni nelle marche annaspano. Nella classifica nazionale siamo passati dal primo al sesto posto. Lettera di richiamo della dirigente regionale ai direttori di Asur. Dunque, scrive Roberto Damiani, si è inceppato qualcosa, sia nelle Marche che in provincia di Pesaro-Urbino, perché eravamo primi in Italia nel rapporto dosi consegnate e vaccini fatti, siamo scivolati in due settimane al sesto posto e stiamo ancora perdendo terreno. E questo, per rendersene conto, basta fare un giro all'ex-Aristò di Pesaro, si devono vaccinare almeno 800 persone al giorno, ma non si arriva a 300. E non si può, dicono, andare avanti in questo modo. E però il problema è che, insomma, c'è anche questo fatto di AstraZeneca, che, ragazzi, la gente non vuole fare, c'è poco da fare, c'è poco da dire, la gente sta male quando lo fa, è brutto da dire, non dovremmo dirlo, ma molti non lo fanno, ma chi lo fa, qualcuno gli ha data bene, molti hanno effetti collaterali e non vogliono rischiare. E comunque, la Regione accelera sui vaccini, domani apre lo slot 50-59 anni, mercoledì quello per 40-49 anni, prime dosi da lunedì alla fascia dei 50 anni, il resto invece alla fine di giugno. Quindi, come abbiamo detto, per quelli che hanno dai 40 ai 49 anni, mercoledì si potranno prenotare, però il vaccino probabilmente non lo faranno prima della fine di giugno, quindi il prossimo mese. Anche il resto del Carlino, titola, classe 40-49 anni, prenotazioni da mercoledì, anticipato a domani invece il via per chi ha più di 50 anni, per i primi la somministrazione solo da fine giugno, per gli altri invece da lunedì. Salta Martini, l'assessore regionale, dice dobbiamo recuperare il ritardo, serviva una platea ampia, non abbiamo gente da vaccinare, giusto allargare dunque le categorie. L'ex-Risto semivuoto anche ieri, aumentano appunto le rinunce per la paura del vaccino anglo-svedese AstraZeneca, che poi ha cambiato nome, ma come se fossimo tutti così rimbecilliti. Uno cambia il nome, poi la sostanza resta quella. Smontata la tenda invece, simbolo dell'era Covid, qui siamo a Turbino, serviva per differenziare i percorsi d'entrata nel reparto tra pazienti contagiati e non, e ora si spera in un graduale ritorno alla normalità. In caso però di emergenza basterebbe mezza giornata per rimetterla in piedi, ma speriamo che faccia le ragnatele. Per il resto invece siamo a pagina 19, sempre da Urbino, taglio del nastro per la tomba di Raffaello, domani sarà il giorno della ripartenza delle attività culturali per la città, mostra dedicata a Luciano Ventrone nelle sale del Castellare. Mentre sotto, no anzi, la pagina di Fano, la pagina di Fano questa mattina apre con la questione dei parcheggi a pagamento, i parcheggi blu. Progetto sospeso almeno per ora. Dopo la raffica di proteste, l'esecutivo prende tempo, verranno rivisti orari, costi e convenzioni per venire incontro soprattutto a residenti e turisti. L'assessore Tonelli dice abbiamo bisogno di qualche giorno per trovare la quadra con Aset. E Tagliolini, che è presidente invece di Marche Multiservizi, dice la fusione con Aset non è ancora, cioè non è all'ordine del giorno. Si inglobano aziende che gestiscono gli stessi servizi, non è questo il caso. E infatti, i lavori invece sul lungomare di Senigallia rallentano l'estate, a Ponente sul lungomare Mameli, vedete questo bel viale, ancora ci sono le ruspe all'opera, qualche chalet aspetta ad inaugurare per non avere l'immagine giustamente rovinata dai cantieri. Interventi in corso anche al sottopassaggio di Cesano, in via Prima Strada, che consente l'accesso al statale. Mentre, andiamo sulla pagina 13 del resto del Carlino. Guardate questa signora che ha 96 anni, si chiama Maria Pollacci, e lei racconta, ho fatto nascere 8000 bambini in 77 anni, e dico, venire al mondo non è una malattia. Maria Pollacci, 96 anni, è l'ostetrica d'Italia, oggi le donne, dice lei, vengono spaventate con troppi esami, il parto è una cosa naturale. Vedete quanta saggezza che c'è in queste donne, che in una frase spiegano meglio di chiunque altro la situazione effettivamente che si vive e che le donne vivono in questa epoca. Ogni tanto mi guardano per assicurarsi che vada tutto bene, la presenza dei padri in sala parto, stiamo parlando dei papà che decidono di assistere e che reggono e non svengono. Ogni tanto mi guardano per assicurarsi che vada tutto bene, ma poi sono felici e ovviamente scoppiano a piangere. Tanti mi scrivono lettere, mi salutano al bar, al bar del paese mi chiamano mamma. Insomma, una gioia. Lei è Maria Pollacci, nata a Mocogno, in provincia di Modena. E nel 2019 ha ricevuto anche l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Chiudiamo con il Giro d'Italia, perché anche se la provincia di Pesaro non ha visto nulla, ma insomma il Giro è passato tra i terremotati, quindi sempre nella nostra regione, segnale di speranza, festa nell'entroterra per il passaggio dei ciclisti, gli sfollati dicono una vetrina per il territorio, ma nei nostri paesi c'è sempre meno gente. In diverse strade è stato rifatto l'asfalto, speriamo di tornare nelle nostre case. Intanto sul fronte calcistico invece, tornando a Fano, una brutta tegola sul Fano, titolo del Corriere Adriatico. tre giocatori hanno il Covid, Brero, Bruno e Scimia positivi. Ieri i tamponi si attendono i responsi, a rischio dunque il match dei play-out di domani. Insomma, è una brutta tegola, c'è preoccupazione alla vigilia di un match che può valere la stagione, quindi l'eventuale salvezza o retrocessione, insomma, la situazione non è bella. Allora, diamo uno sguardo al palinsesto, ai programmi di oggi su Fano TV, in particolare vi segnalo alle 8.55, in diretta dall'Auditorium Conciliazione, sì, siamo a Roma, apertura degli stati generali della natalità, con la partecipazione di Papa Francesco. Poi alle 18, rosario in diretta dall'India, alle 21 uno speciale sul programma di sviluppo rurale delle marche e a seguire l'ultima puntata di Esplorare i confini. Poi naturalmente alle 20.30 l'appuntamento con Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti.